Benvenuti cari follower a questo nuovo video. Prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di cliccare prima sul pulsante Mi piace a questo video e di iscrivervi al canale per ricevere le notifiche. Se l'ultimo aggiornamento del modello europeo di oggi indica l'ingresso di un fortissimo temporale sull'Italia, a partire dalla mezzanotte lunedì, un gennaio fino alle prime ore del mattino di martedì 2 gennaio 2024, questo forte temporale porterà con sé grandi quantità di pioggia e neve accompagnato da forti venti, forte grandine e rischio di improvvise alluvioni. Come vi avevo assicurato tempo fa, nei prossimi giorni un forte temporale si riverserà in Italia. Ma le previsioni sono leggermente cambiate, dato che la tempesta arriverà il 2 gennaio e non la fine di quest'anno. Pertanto, questa tempesta sarà circa 24 ore indietro rispetto alla data prevista e cadrà il 2 gennaio anziché il 31 dicembre. Ma l'importante è che questo temporale raggiungerà l'Italia e porterà con sé grandi quantità di neve e pioggia in tutte le regioni del nord, del centro e anche del sud, ma gradualmente è la parte del leone delle pioghe e della neve cadrà al nord e al sud. Regioni centrali e le coste del mar Tirreno, quindi, se queste previsioni saranno confermate, il temporale sarà molto forte e porterà con sé grandi quantità di neve e pioggia, insieme a venti molto forti, e il rischio di improvvise alluvioni dovute a sono previste grandi quantità di pioggia in un periodo di tempo molto breve, per cui è fortemente richiesta prudenza. Vi forniremo maggiori dettagli riguardo questa potente tempesta più tardi, quando il periodo si avvicinerà. Perché gli aggiornamenti cambiano notevolmente durante questo periodo. Qualunque altra novità importante cercheremo di aggiornarvi nei prossimi video.